A vent'anni dal crollo dell'Unione Sovietica, un reportage fotografico ci fa rivivere i giorni drammatici del tentato golpe di Mosca. Un'occasione per ripercorrere un pezzo fondamentale della storia recente e per comprendere la realtà odierna della Russia contemporanea. Un'occasione per parlare dell'informazione nella Russia di oggi, ripercorrendo la vicenda di Anna Politoskaya e di tanti altri che hanno pagato un prezzo altissimo per aver scelto di raccontare la verità.